Ora partiamo subito con un video che vede Grembo, il miglior streamer d'Italia, fare una piccola tier list, non la guarderemo tutta perché non ce ne frega un cazzo, del mondo, del monte Olimpo. Allora, d'Europa sicuro, del mondo credo, credo. Ok, vabbè vedremo soltanto cosa ha da dire su noi e sarà blastato. Oddio, hanno dato un'idea geniale, fate uno scherzo a Simone, quando arriva, allora ti voglio che il proiettivo... Se non sta a seguire sì, proviamoci. Se scrive in chat e sta a vedere la live. Non dite nulla. Pro podcast? Beh, non c'è un cazzo da dire, loro sono molto bravi secondo me e ogni tanto guardo qualcosa, anche perché stiamo nell'orario in cui io non ho un cazzo da fare, quindi quello che guardo comunque mi piacciono. Certe volte magari un po' mi fanno delle frecciatine, ma ormai ho fatto l'abitudine. Secondo me io li metterei in quasi migliori. Gischianto, allora Gischianto secondo me... Fa buono dai, c'è posta. Ma a me non mi frega un cazzo, a me mi potrebbe mettere ovunque. Alla fine se parla dei gusti... Vaffanculo, Grembo, come ti permetti? Noi siamo i migliori, siamo la più grande potenza mediatica del web! Ma come cazzo ti permetti? Una vergogna! Ma questa è una cosa incredibile, quasi i migliori, quasi, quel quasi, ficcatelo dentro il bucio del culo, stronzo! Ma anche meno, anche meno... Ci siamo invertiti ruoli oggi. Ma anche meno, cioè Grembo, sì, è un'autorità, cioè nel senso il suo giudizio vale molto di più rispetto al nostro. Dovremmo essere fare le tier list. Dovremmo dire a tutti non metteteci nelle tier list. Mi ricorda qualcuno, no? Ma chi è che lo direbbe? Mi ricorda qualcuno del passato, qualche censore del passato. Non credo, ti pare? Ma chi è che si vorrebbe levata le tier list? Non capisco. L'algoritmo di YouTube.